Le principali attenzioni di Enzo De Vito sono rivolte all'attacco. Il DS, che ha messo da parte un gruzzoletto importante per il fronte offensivo, anche grazie ad una serie di operazioni che hanno permesso alla società di non svenarsi i pieghiardini, sta valutando diversi nomi, ma non solo per il big da regalare a Torino, per la cosiddetta ciliegina sulla torta, anche per dare un'altra alternativa valida. Il nome nuovo che rimbalza dalla Sicilia è quello di Edoardo Soleri, un metro e 94, scuola Roma, il calciatore fresco di rinnovo triennale con il Palermo, che potrebbe cederlo in prestito. Nella passata stagione per lui 12 gol tra campionato e Coppa ed in carriera ha anche due esperienze all'estero, con l'Almeira in Spagna e con il Braga B in Portogallo. Per lui anche Padova, Spezia e Monopoli. Potrebbe essere lui l'eventuale sostituto di Gabriele Bernardotto, richiesto a diversi club DC, Piacenza, Cerignolo e Lecco. Adriano Montalto, della regina, resta un nome caldo. Ex Bari e Ternana, piace molto alla dirigenza irpina, così come piace Alessandro Gabrielloni, punta, che ha contribuito alla scalata del comodo alla D alla B. Sempre tra le file degli Ariani gioca Ettore Gliozzi, ex Cosenza. Resta sempre in piedi la pista che porta Mirko Maric del Monza, che De Vito segue da tempo. Nessuna conferma per Alex Novara, Dardan Vutai. Per il centrocampo, l'ultimo tassello potrebbe essere rappresentato da Daniele Altobelli, della Juve Stabia, mentre in difesa piace sempre Erasmo Moulet, della Juve Under-23. An inizio prossima settimana potrebbero esserci novità in entrata e poi si proverà a chiudere il cerchio con gli additi Francesco Forte, Andrea Sbraga, Gennaro Scognamiglio e Riccardo Maniero.